Ben tornati in studio con obiettivo salute. Il secondo argomento di questa sera riguarda il trapianto di organi. Lo affrontiamo con il professor Giuseppe Tisone, direttore dell'unità operativa complessa del centro trapianti del Policlinico Tor Vergata di Roma. Buonasera professor Tisone. Professore non possiamo non dare questa notizia recente. Sono ben 50.000 i cittadini che hanno deciso di donare gli organi dopo morti in caso di incidenti o traumi. Questi sono gli ottimi risultati di una campagna sulla donazione di organi fatta da pubblicità Progresso nel 2012-2013. Sono stati presentati al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Direi un buon risultato professor Tisone che adesso lei mi commenterà. Volevo soltanto far vedere quali altri numeri, con l'aiuto del nostro regista Roberto Pistonesi, quali altri numeri inquadrano il nostro argomento di questa sera. Nel 2013 in Italia sono stati trapiantati quasi 3.000 pazienti, solo una cinquantina in meno rispetto al 2012. Nel dettaglio 1.500 erano trapianti di rene, quasi 1.000 quelli di fegato, più di 200 quelli di cuore, 141 di polmone e ben 58 di pancreas. Professor Tisone, allora quando si parla di trapianti di organo non si può fare almeno di parlare di donazioni, infatti noi ci abbiamo iniziato proprio questo spazio. Una domanda particolare che volevo farle riguardava appunto la donazione da vivente invece. Quando è che si può fare questo tipo di donazione? Chiaramente i numeri si riferivano alla donazione da cadavere. La donazione da vivente è un più che può aggiungersi a cercare di soddisfare la grande richiesta che c'è da parte dei tanti pazienti in attesa di un trapianto. Il trapianto da vivente nella maggioranza dei casi è un trapianto di rene, perché noi abbiamo due reni e i nostri due reni funzionano al 50% in una persona normale, quindi se ne togliamo uno l'altro rene comincerà a funzionare al 100% e quindi possiamo vivere anche senza uno rene. Esiste anche la possibilità di donare una parte del proprio fegato per poter trapiantare anche in quel caso un altro paziente. Stiamo sempre parlando di trapianti tra consanguinei, quindi tra membri della stessa famiglia, in genere nella maggioranza dei casi, tra genitori e figli o tra fratelli e sorelle e quindi nell'ambito della famiglia. Ci sono altri organi che possono interessare la donazione da vivente? Esiste la possibilità, anche se i numeri sono molto piccoli, di donare anche una parte del proprio pancreas per poter fare il trapianto o anche una parte del proprio intestino. Bene. Per quanto riguarda sempre questo tipo di donazioni, siamo indietro rispetto ai partner europei oppure no? Lei ha dato un dato molto significativo, i 50 mila che si sono iscritti negli ultimi due anni sono soltanto la parte finale di un movimento che è iniziato già da numerosi anni. L'Italia vent'anni fa si attestava forse tra le cenerentole europee, nel senso donatori per milioni di abitanti eravamo agli ultimi posti della classifica, negli ultimi anni siamo arrivati ai primi posti della classifica. A cosa dobbiamo dire grazie alle campagne di sensibilizzazione? Sicuramente alle campagne di sensibilizzazione, al fatto di spiegar bene di che cosa stiamo parlando perché c'era poca cultura nel passato. A questo proposito professor Tisone ci spiega infatti perché è importante donare gli organi e come avviene? Guardi, io ho una frase che ho già detto in altre occasioni e che però secondo me è molto significativa. Per me è il modo di trasformare una morte inutile in qualcosa di utile per gli altri, perché purtroppo stiamo parlando di un ex paziente perché ormai nel momento in cui viene fatto l'accertamento di morte stiamo parlando di un cadavere e quindi il cadavere a quel punto onestamente non ha più possibilità. Però dà la possibilità di curare tante altre persone, di dare la vita a tante altre persone. Come si fa a convincere una famiglia appunto a donare gli organi di un proprio padre? Questa è la parte più difficile, in effetti l'Italia forse tra i primi paesi in Europa già tanti anni fa introdusse la possibilità di una nuova legge che decideva di chiedere a tutta la popolazione la volontà di essere donatori o no in caso di decesso. Il problema è che poi, e quindi evitare lo stress che la famiglia deve subire nel momento in cui c'è un decesso e dover andare a chiedere il permesso in questo senso. Purtroppo la legge poi nella pratica non è mai diventata operativa e quindi ad oggi ci troviamo ancora a chiedere il consenso ai familiari. È difficile, però io dico sempre che se c'è stato un rapporto fiduciario, la famiglia si è resa conto che la struttura, l'ospedale ha cercato di fare di tutto per salvare quella vita umana e nel momento in cui questo non è stato possibile interviene la possibilità di donare. L'italiano è un popolo generoso, molto più generoso di quanto si possa pensare e in questo senso aver fatto questo. Infatti i numeri non sono da poco. Come ho detto, adesso siamo tra i primi paesi europei in senso di donazione per milioni di abitanti. Abbiamo superato la civilissima Inghilterra che storicamente era un paese in cui i trapianti sono nati. Che non era un traguardo facile. E al Policlinico Tor Vergata quanti trapianti eseguite? Noi facciamo circa un centinaio di trapianti l'anno presso la struttura del Policlinico Tor Vergata, prevalentemente fegato, rene, pancreas. Sono numeri importanti. E dopo il trapianto un malato riesce poi a condurre una vita normale dopo che gli è stato trapiantato un organo? Io dico sempre al paziente, quando lo mettiamo in lista, che il nostro obiettivo è di riportarlo ad una vita normale. Il nostro obiettivo non è di creare un altro paziente, ma di creare una persona che sta bene per la sua età. Ci sono pazienti, nostre pazienti che hanno partorito, hanno avuto figli, c'è chi ha fatto la maratona di New York, quindi per dire che si torna a fare una vita completamente normale. Assolutamente normale. Io ho qui un dato che soltanto il 10,4% di chi è stato trapiantato ha bisogno di un'assistenza parziale. Che cosa vuol dire? Significa che è una restituzione ad una qualità di vita assolutamente normale. Quindi l'obiettivo e il risultato è quello di riportarli a fare una vita normale, che non significa essere assistiti. Cioè significa fare una vita normale. Guarda poche operazioni. Infatti solo il 3,4% ha bisogno di un'assistenza totale, direi che è un dato minimo. Quali sono le ultime novità allo studio per quanto riguarda i trapianti di reni e fegato? Beh, per esempio noi stessi proprio presso l'Università di Tor Vergata ormai da anni ci siamo occupati di studiare il fenomeno della cosiddetta tolleranza. Cioè perché questi pazienti una cosa che debbono fare per il resto della vita è prendere dei farmaci che servono a prevenire o evitare il rigetto. E lo studio di questo fenomeno cerca di farci individuare quei pazienti nei quali invece sarebbe possibile sospendere questa terapia perché sono stati considerati tolleranti, cioè che hanno accettato quest'organo che non era il loro. Questo è uno dei settori della ricerca come ce ne sono tanti altri. Che state esaminando. Questo è fra i più importanti immagino. Apriamo un altro capitolo, quello degli organi artificiali. Sono destinati a diventare una vera alternativa agli organi umani? Beh, ci sono delle difficoltà tecniche non di poco conto. Abbiamo sentito tutti parlare del cuore come organo artificiale perché il cuore è un organo che ha una funzione piuttosto semplice, è soltanto una pompa, quindi è più facilmente ricostituibile con una macchina. Organi che hanno funzioni anche di altra natura come fegato, reni, sono più difficili da rendere in una macchina. Io penso che il futuro più che in questo sarà nella medicina rigenerativa, cioè nella capacità di ricreare tessuti o addirittura organi danneggiati partendo da cellule primordiali. Quindi penso che quello più che dell'organo artificiale sarà forse il futuro in questo settore. Certo, un altro bel tema interessante. Allora, a proposito dei malati in lista d'attesa, nel 2013 in Italia erano 8.828 per la precisione. Di questi 6.700 sono i malati che attendono un rene. Quant'è l'attesa media, professore, per un trapianto di rene? Il trapianto di rene ha, rispetto agli altri trapianti, un vantaggio che è quello che esiste una terapia sostitutiva che si chiama dialisi, per cui il paziente può stare in attesa del trapianto per un tempo anche più lungo. E in effetti il tempo meglio d'attesa prima di essere trapiantati di rene è fra i 2 e i 3 anni, però perché esiste una terapia alternativa. È vero che il 10% dei pazienti muore, purtroppo, durante questa attesa? La dialisi, che è migliorata moltissimo nel corso degli anni, è pur sempre una terapia che non riesce a sostituire completamente la funzione del rene e che porta col tempo a dei danni su questi pazienti che per tre volte alla settimana si debbano sottoporre a questo trattamento che fanno aumentare i rischi, specialmente quelli cardiovascolari e quindi la mortalità di questi pazienti. Vediamo infatti che non sono poche le persone che riescono a essere operate con successo, il 70-80% è la percentuale di riuscita degli interventi, non è così professor Tisone? Questi sono i dati dei risultati, i risultati sono strabilianti perché stiamo parlando di malattie incurabili, questo è un concetto che va ben detto, avere un 70-80% di successo per una malattia incurabile è un grandissimo risultato. Il problema che ha accennato fin dall'inizio è che la chirurgia sostitutiva, cioè la chirurgia dei trapianti, ha il limite degli organi per trapiantare, quindi pur quando arriveremo a una grandissima donazione, a utilizzare tutti i donatori possibili, forse non riusciremo mai a soddisfare la grandissima richiesta perché uno dei problemi non sono tanto i pazienti che riescono ad entrare nelle liste d'attesa, ci sono dei pazienti che non riescono nemmeno ad arrivarci alla lista d'attesa perché magari muoiono prima e quindi non riescono ad avere questa opportunità. Certo, professor Tisone, lei appunto diceva che i dati sui donatori in Italia sono incoraggianti, quindi secondo lei comincia decisamente a esserci questa cultura della donazione nel nostro paese? Assolutamente sì, come ho detto l'italiano è sempre stato individuato come un individualista, l'italiano è un po' egoista come cultura, questo è un esempio che non è vero, l'italiano se coinvolto e ben spiegato è generoso ed altruista, quindi io penso che in questo senso abbiamo fiducia nei connazionali che si può allargare anche in altri settori, questo è un esempio. Quindi non è soltanto un problema di solidarietà però forse, anche di organizzazione? Sicuramente di organizzazione, l'organizzazione è fondamentale perché è un lavoro complesso che coinvolge tantissime persone e quindi l'organizzazione è cruciale in questo tipo di attività. E com'è in Italia? In Italia lo dimostrano i nostri risultati, lo dimostrano quello che facciamo, siamo all'altezza direi siamo tra i primi, quindi non solo all'altezza ma è un'eccellenza del nostro paese che ci viene riconosciuta anche a livello internazionale. Quindi sono efficaci anche le campagne di sensibilizzazione, secondo lei fanno molto? Sono fondamentali. Per quanto riguarda la donazione di organi, di sangue, midollo e anche cellule staminali? Tutto, sì, perché la gente deve conoscere, quando conosce risponde in modo positivo. Se si resta nell'ignoranza, l'ignoranza non è bene per nessuno. Certo, non giova a nessuno. Stiamo vedendo le immagini di un trapianto, a questo proposito allora, tornando al trapianto in sé, quali sono le complicanze più frequenti che possono verificarsi? È chiaro che dipende molto da che tipo di trapianto stiamo parlando, perché le complicanze di un trapianto di fegato sono diverse da quelle di rene, cuore o polmone. In generale, la complicanza più diffusa che accomuna un po' tutti i trapianti è, da una parte, il rischio del rigetto, dall'altra il rischio delle infezioni, perché dovendo ridurre le nostre difese immunitarie per evitare il rigetto, un pochino esponiamo questi pazienti ad un rischio, specialmente nell'immediato peri e post-operatorio, ad un rischio infettivo più elevato rispetto alla popolazione normale. E come si possono scongiurare queste complicanze? Queste complicanze, chiaramente, è multifattoriale, ci sono tante cose che ce le fanno scongiurare, sicuramente il nostro atteggiamento, per esempio, di ridurre ai minimi la terapia anti-rigetto, ci riduce anche il rischio di sviluppare infezioni. È già una buona partenza, posso esprimermi così. Perfetto, allora io saluto e ringrazio il professor Giuseppe Tisone, direttore dell'unità operativa complessa del centro trapianti nel Policlinico Tor Vergata di Roma. Ed eccoci arrivati al nostro spazio dedicato alle mamme e ai bebè. Questa settimana una bellissima attrice ci ha raccontato come ha vissuto la sua gravidanza. Guardate un po' che abbiamo incontrato per voi. Dopo l'intervista ho un attimo di pubblicità, ma restate con noi. Non sono una persona che si spaventa facilmente, non sono ansiosa, concedo a mio figlio di fare un po' quello che vuole perché dietro l'esperienza si imparano le cose, dietro gli errori si imparano le cose, dietro le cadute si imparano le cose. Siamo stati fortunati come coppia, io e mio figlio, perché neanche rigurgitava quando lo allattavo, insomma è stato un percorso abbastanza facile. Pagai qualche cosa in gravidanza perché ho avuto tante nausee, però comunque ero forte del fatto che la gravidanza fosse una questione di salute, un accadimento di salute, non è certo una malattia. Quindi serenamente sono stata, lo accompagno serenamente verso gli otto anni, adesso ne ha sette, però tutto a posto, grazie. 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 Grazie.